E' Hilary di Aquafortis Astrology e in questo video parleremo della scalata abbastanza ardua di Giove nelle terre del Capricorno attraverso gli occhi dell'astrologia antica. La trascrizione di questo video lo trovate nel mio nuovissimo sito che si chiama www.aquafortisastrology.com Trovate tutti i dettagli nella descrizione del video qui sotto. Allora, cominciamo dalle date di questo transito di Giove in Capricorno. Giove entra nella casa del Capricorno il 2 di dicembre 2019, alle 19.20 ore locali e ci rimane fino al 19 di dicembre 2020. Giove nella terra di Saturno non è molto felice. Perché? Perché Giove e Saturno guardano il mondo da un punto di vista molto ma molto diverso. Giove vuole prima di tutto l'allineamento verso lo scopo reale della nostra vita e poi, attraverso quel punto centrale, crescere nel mondo attraverso la speranza, entusiasmo e generosità. Saturno, invece, prima di tutto, vuole che noi onoriamo i nostri limiti e i limiti circostanti, accettando la nuda e cruda realtà. E poi, da quel punto gravitazionale, pian piano, far crescere le radici facendo il meglio delle nostre circostanze. E' un po' come avere il punto di vista dell'ottimista e di un pessimista. Giove è l'ottimista che dice se lo posso sognare lo posso fare. Saturno è il pessimista che dice sai cosa? Qui le cose non cambiano. Cosa posso fare con quello che ho? Per cui potete immaginare l'andazzo di Giove che vive nella casa di Saturno. Fuò l'ottimista che vive nella casa del pessimista. Giove dovrà andare contro molta resistenza per poter ottenere qualcosa di tangibile. La casa del Capricorno è l'espressione di Saturno nell'elemento più tangibile che è la Terra. Anche se il Capricorno introspettivo di natura e tende alla perseveranza e alla conservazione, è un'energia che ha una grande forza di agire. L'energia del Capricorno si muove nel mondo in questa maniera. Bene, ora sono qui. Questa è la realtà. Fammi vedere bene di cosa si tratta. E poi comincia una metodica mappatura del terreno circostante. E tutto viene capito così nel profondo che i limiti posti della Terra diventano dei punti di forza da usare a proprio vantaggio. Il Capricorno è sapere le regole per poter utilizzarli al meglio. Ora, Giove in Capricorno avrà bisogno del tempo per adattarsi. All'inizio manco capirà che caspita gli è successo e gli sembrerà che tutto sta cascando a pezzi. Giove si sentirà imprigionato dalla visione nuda e cruda di Saturno. Il rischio che Giove corre è il pensare che la realtà fisica, che la morte e la vita sono le uniche cose che ha. Che la verità risiede nell'accumulare ricchezza, potere e autorità. Giove in Capricorno può arrivare a vedere la fede non più qualcosa da coltivare partendo da una coerenza anteriore, ma da una fede posta sulle strutture materiali esterne. Il rischio che Giove si perde strada facendo è molto alto. Specialmente se poi consideriamo che il viaggio di Giove in Capricorno, del 2019 al 2020, non è un viaggio in solitaria. Giove purtroppo condividerà la casa del Capricorno per qualche tempo con la squadra dei domolitori fatta da Saturno, Plutone e i nodi lunari. La sfida di Giove di non rimanere intrappolato nelle dinamiche di potere e del materialismo diventa ancora più ardua. Qui si rischia che la verità e la sua manipolazione viene passata come necessaria per il bene di tutti, o che le leggi della giustizia vengono utilizzate per limitare delle verità scomode e che il sapere che nasce dalla terra viene ostacolato per dominare e sopprimere. Però Giove rimane sempre Giove, il portatore di speranza e il rivelatore della nostra verità interiore. Giove per natura è moderato e equilibrato. Alle secche e fredde terre del Capricorno lui porterà del tiepido calore e un po' di conforto a un modo di benevolenza e pietà. Ci ricorderà che anche se siamo nel bel mezzo di grandi moti di cambiamento e turbolenza, dentro di noi c'è una voce che ci chiama ad una coerenza spirituale, emozionale, morale e materiale. Giove nella terra del Capricorno ci porta opportunità di addrizzare ciò che è stato spezzato. Però ovviamente questo non succede così in aria senza che noi non facciamo qualcosa. Ovunque Giove sta camminando nel nostro tema natale ci sta chiedendo di portare insieme ciò che sembra altamente incongruo. Al posto di freddo pragmatismo Giove chiede di avere pietà. Al posto di un potere brutale Giove chiede la benevolenza. La magia che Giove sfodera in Capricorno e in quella parte della nostra vita che la rappresenta è un pratico e necessario equilibrio fra la luce e l'ombra. Ci chiede una fede in una forma molto tangibile. Ci chiede coerenza non in teoria ma nei fatti. Giove in Capricorno ci chiede di essere di questo mondo ma di comunque tenere in mente che c'è molto di più di quello che il nostro occhio umano può vedere e il nostro cervello concepire. Giove ci chiede la fede ma non guardando lassù ma guardando e agendo qui giù. E questo non sarà facile per nulla. Non solo perché Giove deve andare contro il pessimismo di Saturno ma anche contro la manipolazione di Plutone e le distorsioni dei nodi lunari. E forse questa è la quintessenza della magia di Giove in Capricorno di forgiare la virtù attraverso dura necessità. perché l'uniche cose che si riusciranno a fare in questo periodo richiederanno da noi non solo di crederci in quello che facciamo ma di dimostrarlo con dei tangibili e soliti fatti contro ogni previsione. Se avete bisogno di consiglio come navigare queste energie sono disponibili per delle consulenze private. contattatemi attraverso il mio nuovissimo sito e prima che andate via ricordatemi di dirmi cosa ne pensate pollice in su condividete sotto che si vede questo canale. A presto e buona fortuna.